Il progetto sta intervenendo, accompagnando le amministrazioni pubbliche coinvolte, comuni, province e unioni di comuni per attuare una norma, quella passata col termine FOIA, accesso generalizzato che riguarda la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. L'accompagnamento sta consistendo soprattutto nel dotarsi di strumenti per rispondere alle istanze di accesso da parte dei cittadini e di chiunque sia interessato all'azione amministrativa attraverso strumenti vari, tecnologici, di formazione e di metodo, quindi strumenti che accompagnano soprattutto le persone che lavorano nelle amministrazioni a rendere al meglio un servizio, perché cercando di far capire che il diritto all'informazione è soprattutto da parte dell'amministrazione un'erogazione di un servizio verso i cittadini. Tipicamente il FORMETS ha tra le attività più importanti, più sostanziali, la formazione delle amministrazioni e del personale coinvolto. In questo caso la formazione sta essendo erogata nelle amministrazioni coinvolgendo soprattutto gli uffici e il personale direttamente coinvolto nella gestione di queste richieste e cercando di tenere insieme le competenze utili ad erogare questo servizio nella maniera più chiara ed efficace possibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti.